Puntata dedicata agli eventi e agli appuntamenti, anche perché la prima domenica del mese come sempre ci sono tante opportunità per visitare musei in occasione della giornata di apertura gratuita per tutti, soprattutto nei siti museali statali, ma andremo a parlarne subito dopo la sigla. Non c'ho neanche la voce quest'oggi. Allora, è la prima domenica del mese, continua l'appuntamento gratuito in questa giornata tutti i mesi, quindi ci sono davvero tante opportunità. L'elenco completo dei siti museali aperti e gratuiti potete trovarlo sul sito del MIBACT, il sito del Ministero dei Beni Artistici e Culturali del nostro paese. Intanto però vi do qualche consiglio, insomma qualche dritta. Domenica di andare a visitare il Museo del Novecento. Si trova in via Tito Angelini 22, insomma negli spazi di Castel Sant'Elmo, nel carcere Alto. Lì potete trovare delle opere di 90 artisti napoletani, dalla pittura alla scultura, in tante anche arti figurative, che si sono cimentati soprattutto nel periodo che va dal 1900 al 1999. Sono ben 170 opere ed è insomma una giornata per poter visitare anche il sito magnifico di Castel Sant'Elmo e da lì ammirare tutta la bellezza non solo di Napoli, non solo del Golfo, ma anche di tutto il territorio vesuviano e del maestoso Vesuvio che ovviamente guarda tutti dall'alto. Altro consiglio, sempre approfittando dell'apertura straordinaria e gratuita di molti siti museali, vi ripeto l'elenco completo e potete andarlo a vedere sul sito del Mibat, è quello di visitare il Parco Vergiliano di Piedigrotta. Sì, vergiliano da non confondere ovviamente con il Parco Virgiliano che si trova a Posili. Perché è famoso questo parco? Perché contiene le spoglie di Virgilio e di Giacomo Leopardi. Si trova a salita della grotta numero 20, stiamo parlando delle spalle della chiesa di Piedigrotta, siamo nei pressi della stazione di Mergellina della Metropolitana. Ancora una possibilità, visto e considerato che c'è l'apertura straordinaria e gratuita dei musei domenica 3 febbraio, c'è infatti l'apertura e la possibilità di visitare il Parco Archeologico di Ercolano. Lì potete ammirare mentre i restauratori sono all'opera presso il parco stesso, presso la Villa dei Papiri. Avete anche la possibilità di chiedere informazioni, curiosità alla restauratrice o ai restauratori che stanno facendo quest'opera. Il tutto si può comunque ammirare fino al prossimo 5 di febbraio e comunque domenica l'ingresso è gratuito. E cambiamo invece giornata e anche questo è comunque un evento gratuito. Presso la libreria Io Ci Sto, in via Cimarosa-Denti, lunedì prossimo 4 di febbraio alle 17.30. Si parla di Napoli nel cinema e nella letteratura. Con chi? Con Paolo Macri, uno storico molto affermato e con il critico cinematografico Valerio Caprara. Potrete anche avere l'opportunità di incontrarvi perché io sarò presente a quell'evento, ovviamente se vi fa piacere. Ultimo evento è come sempre dedicato a quello che noi chiamiamo la gita furiporta. Questa volta ci trasferiamo nel Salernitano, una zona molto bella. Parliamo di Positano. È possibile infatti visitare una villa romana proprio a Positano che è stata sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Potete ovviamente capirne un po' di più e prendere eventualmente l'appuntamento andando a vedere il sito www.marpositano.it ed è un'occasione da non perdere soprattutto perché Positano che notoriamente è davvero quasi impossibile da visitare soprattutto nel periodo che va dalla primavera fino all'autunno inoltrato. Questo è un buon periodo per andare a passare una giornata diversa magari mangiando anche sul mare e vedendo questa straordinaria villa romana che è ritornata alla luce dopo essere stata sepolta quasi per duemila anni. Questi sono gli appuntamenti che vi consiglio per i prossimi giorni tenendo conto che saranno giorni difficili, i giorni cosiddetti della merla sono proprio passati appena da qualche ora ma continua comunque il freddo, la pioggia ma insomma deve farlo, siamo e come ripeto sempre in pieno inverno e se no lo fa ora freddo quando deve pur farlo anche se siamo a Napoli o paese rosole. Vi consiglio quindi di uscire, di passare una giornata diversa in una delle prossime giornate e soprattutto domenica approfittate quindi di tanti musei aperti e gratuiti perché come sempre vi ricordo a vita e una facciata fenesta. A domani!